L'inchiesta Ressole ha portato alla luce intercettazioni e nomi che ora fanno discutere, come quella che coinvolge il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Antonio Sorgi dichiara alla moglie di sperare in un aiuto dell'allora non governatore per ottenere l'appalto del cimiterio di Francavilla. Ascoltato in tribunale, le dichiarazioni del governatore hanno riportato informazioni circa le voci che circolavano su Sorgi. Dice D'Alfonso, qualcuno ne parlava bene e qualcuno no. Legnini mi disse di non fidarsi. Legnini, per inciso, è il neo vicepresidente del CSM, il consiglio superiore della magistratura. Oggi il pentastellato Domenico Pettinari solleva una questione su quelle dichiarazioni. Tutto questo è un quadro allarmante e a dir poco preoccupante, perché parliamo di incontri appunto acclarati dalle informative di Polizia Giudiziaria tra il nostro governatore, quando non era governatore, quando non era nessuno, all'interno sembrerebbe di società private, con questo direttore regionale arrestato. E poi una serie di colloqui, di intercettazioni. Ebbene, noi vogliamo capire cosa ci faceva il presidente in quei posti, perché si incontrava con questa persona. E allora è arrivato il momento di spiegare all'assise appunto regionale e spiegare ai cittadini, perché i cittadini pretendono di sapere. Cioè noi abbiamo un governatore della regione che in questi giorni è stato tanto chiacchierato per questi incontri, questa intercettazione con qualcuno che poi è stato arrestato. E' una cosa gravissima, noi riteniamo che lui debba subito venire a fare chiarezza. Perché c'è qualcosa che noi evidentemente non sappiamo, c'è qualcosa che a noi sfugge, che il presidente evidentemente sa. Ebbene, lo vorremmo capire anche noi, vorremmo sapere anche noi. C'è anche un'interpellanza parlamentare del nostro deputato Gianluca Vacca, che depositerà a giorni proprio per chiedere anche intervento dei ministeri competenti su questa operazione che veramente ci preoccupa.